Con i proclami non si fa il pane. Il presidente dell'associazione dei pescatori del porto rifugio di Gela, Davide Calabrese, ribadisce ancora una volta che il porto gelese versa in stato di abbandono. Un fatto tristemente noto. Dopo l'indignazione suscitata dai fondi erogati per il porto di Marsala, contrapposti al silenzio calato per il porto di Gela, il presidente della regione, il gelese Rosario Crocetta, non trova meglio da fare che il solito proclama in favore del nostro porto. Ma, rimarca Calabrese, con i semplici proclami non si liberano le barche da un porto insabbiato, non si realizzano le condizioni minime di sicurezza, non si assolve il dovere dei pescatori nei confronti delle loro famiglie. Lavorare. Vogliamo che sia convocata subito la conferenza dei servizi che c'era stata promessa per l'inizio di aprile. Vogliamo conoscere, dice ancora Calabrese, i contenuti del protocollo attuativo tra Eni e Regione Sicilia per capire che tipologia di investimento è prevista. Pretendiamo che vengano utilizzate le compensazioni così come previsto dal protocollo Eni sottoscritto il 6 novembre del 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico. Pretendiamo, inoltre, che i deputati regionali gelesi Giuseppe Arancio e Pino Federico diano seguito agli impegni presi nel corso dell'ultima riunione. Ad ogni modo, anche se l'iter procedesse secondo quanto previsto, da qui sino alla realizzazione degli interventi all'interno del porto, come faremo ad uscire e quindi a lavorare? Chi ci garantirà un reddito dignitoso? Interrogativi che al momento non hanno risposte. Adesso il tempo è scaduto, chiosa Calabrese. I pescatori, riuniti in associazione, ed il comitato del porto di Gela si mobiliteranno al fine di promuovere le azioni che riteranno opportune per riprendersi la dignità di lavoratori sottratta da troppo tempo.